Quando ho iniziato a fare trading sul Forex ero un po' agitato e quelle poche volte che riuscivo ad andare in profitto mi agitavo e molto spesso chiudevo subito il trade con poco guadagno per poi vederlo andare su di brutto per così dire e quindi dopo tre settimane il mio conto era zero. Il programma premium si occupa di migliorare la psicologia di un trader insegnando esatti metodi per migliorare la propria disciplina.